Potrebbe esserci anche BNL e BNP Paribas tra gli interessati all'acquisto di nuova Banca Etruria e nuova Banca Marche, un'attenzione che andrebbe così ad aggiungersi a quella di Banca Popolare di Emilia Romagna, anche se ancora sarebbero da finalizzare le offerte. Si stringono intanto i tempi per le offerte vincolanti per le Good Bank, nate dalle cenere di Banca Etruria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara. Il termine per la presentazione, inizialmente fissato per lunedì 29 agosto, è stato spostato a venerdì in modo da consentire ai potenziali acquirenti di valutare con più calma la situazione finanziaria delle Good Bank, ma si avvicina comunque sempre più il 30 settembre, il giorno stabilito da Bruxelles per la cessione dei quattro istituti di credito. Sono dunque attese per i prossimi giorni ulteriori proposte per l'acquisto. Per adesso rimangono quelle dei fondi Apollo e Lone Star offerte, però secondo indiscrezioni troppo basse e per questo respinta al mittente. Oltre alla vendita in blocco, inizia a prendere sempre più campo anche l'ipotesi spezzatino all'interno della quale si inserirebbero appunto i nomi della Popolare dell'Emilia Romagna per Banca Marche e Banca Etruria e adesso anche quello di BNL BNP Paribas. La Banca Popolare dell'Emilia Romagna al momento non avrebbe formalizzato alcuna offerta nel corso del Consiglio di Amministrazione di martedì scorso. Il tema sarebbe stato affrontato ma ancora permarrebbero alcune prepressità.